Indagini in corso a Viareggio per una sassaiola contro i carabinieri andata in scena nella serata di venerdì. L'episodio si è verificato in Via Lenci, nel quartiere Varignano, dove una pattuglia della locale compagnia era intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di alcuni residenti di un gruppo di giovani che stavano lanciando petardi disturbando la quiete pubblica. Una volta arrivati in zona, i carabinieri hanno subito individuato i ragazzi che alla vista della pattuglia hanno provato a nascondersi tra i palazzi. Non appena i militari si sono avvicinati, i giovani hanno però iniziato a lanciare contro di loro oggetti vari e sassi. A quel punto è stato richiesto l'intervento di altre pattuglie, ma i responsabili della sassaiola sono riusciti a dileguarsi. Non ci sono stati fortunatamente feriti, solo lievi danni all'autovettura di servizio. I militari comunque in queste ore avrebbero già raccolto elementi utili per identificare gli autori del gesto che secondo quanto emerso sarebbero tutti giovani del quartiere. Mi auguro che si individuino questi soggetti e se sono minorenni vengano accompagnati dalle loro famiglie che mi auguro provvedano a farli capire che così non si fa. E se sono maggiori anni che paghino in maniera adeguata questi gesti veramente vergognosi.